bene buongiorno presenti buongiorno a chi online oggi dobbiamo fare un sacco di cose soprattutto a livello di implementazione quindi non andremo molto avanti col programma però sarà una sessione sicuramente spero interessante per voi perché quest'anno rispetto agli anni scorsi decido di mettere in pratica tante più cose possibili che vediamo nella teoria infatti ieri abbiamo visto la tecnica di programmazione dinamica e in particolare un algoritmo di leveshtein per trovare la distanza tra stringhe ovvero quello che consente a word a google e al vostro smartphone di suggerirvi le parole che voi digitate e noi tutti digitiamo in maniera errata e quindi dobbiamo implementare un algoritmo e l'algoritmo ce l'abbiamo davanti quindi sembra che non ci sia nessuna difficoltà intanto lasciatemi dire dove eravamo rimasti con notepad eravamo rimasti questa cosa dovevo implementare nel nostro notepad eravamo rimasti che c'è solo da diciamo poi lo finiamo è magari anche oggi dobbiamo soltanto faccio vedere insomma dobbiamo mettere soltanto appunto le ultime cose per condividere lo schermo ha ragione grazie perfetto dicevo il nostro notepad in questo momento funziona abbastanza bene dobbiamo solamente stare attenti che quando cambiamo quando per esempio adesso io ho scritto del test in un nuovo documento si è attivata l'icona del sabotaggio ma se vado in un documento che è già allineato col disco dovrebbe disattivarsi questa icona così come anche questi due icone se non c'è nessun undo da fare deve essere disattivato sono delle cose piccole però rendono comunque professionale poi l'applicazione quello che invece oggi vogliamo fare ah vabbè vi chiedete come è possibile che appare sta cosa l'altra volta non appariva sono cose che stanno in qt da un certo punto nel documento c'ho scritto dove c'ho scritto a parte che ci ho messo un font di default simile a quello di notepad notepad++ che utilizzo io però in che parte c'è set playsolder text è un metodo della classe q text edit quindi non l'ho scritto io il playsolder text è un testo che non fa parte del documento ma serve solamente per dire all'utente guarda inserisci il tuo testo qui appena inserisce scompare quindi non è un testo del documento è soltanto un'indicazione un suggerimento quello che però noi oggi vogliamo fare è implementare un suggeritore ora il suggeritore funziona con il tasto destro tipicamente in word io premo innanzitutto c'è una sottolineatura delle parole questo lo potremmo fare ma ci prenderebbe tantissimo tempo quindi lo ignoriamo magari per esercizio se uno è appassionato di notepad lo può fare con gli strumenti di qt si può fare anche questa cosa qui quello che noi vogliamo fare è cliccare con il destro su una parola e nel nostro menu che fino all'altra volta era un menu con le opzioni predefinite andu redou taglia copia incolla eccetera ci dovrebbero essere anche dei suggerimenti suggerimenti che però sono le parole più vicine nel dizionario rispetto a quella parola ovviamente in questo momento non sta funzionando perché dobbiamo implementarlo tra l'altro questo è un documento di lingua inglese però quello che dovrebbe succedere che mi suggerisci le parole giuste dovrebbe succedere che se io clicco su suggerisci lui mi dovrebbe dare su questa parola che ho scritto male mi dovrebbe dire suggerisci la parola più vicina nel dizionario dizionario delle forme flesse quindi ci sono anche le coniugazioni del verbo suggerire così come qui dovrebbe dirmi parole anche se parle parle potrebbe essere anche potrebbe anche essere vicino alla parola parla quindi qua ci sono due parole vicine a parle c'è parole parla parli parlo non parle parle non è nessuna coniugazione che conosco però questo è quello che dobbiamo fare oggi ora come ho implementato questo menu perché l'ho fatto io non ho fatto in classe perché per fare sta cosa ci vuole un'ora ci vuole un'ora per documentarsi su come bisogna andare nelle documentazioni di Qt e studiarsi studiarsi andare a cercare le funzioni giuste per fare sta cosa ci ho messo un'ora noi saremo stati oggi un'ora solo per creare questo menu ma non è quello l'interesse di oggi ok quindi poi ve lo spiego anche come ho fatto però concentriamoci vorrei fin da subito nel implementare questo suggeritore ora il suggeritore sta nella classe corrector la classe corrector è quella che noi abbiamo detto essere deputata alla alla correzione del testo quindi a trovare la parola più più vicina a quella che stiamo inserendo questa cosa il corrector dov'è che si invoca da qualche parte e ve lo devo spiegare ma non adesso quando clicco sul destro si crea un menu un menu che inizialmente è il menu della classe QtextEdit quello standard standard menu però grazie all'ereditarietà io sto facendo sto creando un metodo che sovrascrive in un certo senso il metodo della super classe quindi il mio metodo per creare il menu della classe documento invoca il metodo per creare il menu della classe che sta sopra e in più ci aggiunge ci aggiunge delle questi momenti in cui aggiunge delle azioni queste azioni sono le parole da suggerire però queste parole suggerire vedete che c'è un po' di codice bisogna cercare la parola che sta sotto al mouse e questo è il codice che trova la parola che sta sotto al mouse in quel punto far trasformare la stringa in lower case cioè minuscole perché perché ragazzi la ricerca nel dizionario si fa ignorando le maiuscole e le minuscole e poi c'è da chiedersi una cosa ma per caso la parola che io sotto il mouse è corretta perché se è già corretta io non devo suggerire delle alternative sta nel dizionario delle forme flesse e quindi non lo faccio se invece non è corretta vado avanti questo momento in cui devo chiedere per esempio al corrector devo chiedermi di suggerire delle parole queste parole che lui suggerisce se andiamo a vedere nella classe corrector è un metodo suggest che restituisce una lista di string quindi una lista di suggerimenti quanta lunga questa lista dipende quanti suggerimenti vogliamo noi mettere nel menu c'è un parametro di default che indica n uguale 5 cioè 5 suggerimenti ma potrebbero essere 4, 3, 2, persino 1 però comunque è un parametro del problema quindi passata una parola in ingresso sbagliata scritta male restituisce in uscita in questo caso le 5 parole più vicine nel dizionario delle forme flesse ora che questa classe abbia questo metodo instance che ci ricorda l'instance di qapplication non ce ne frega più di tanto per adesso ci arriveremo dopo a queste cose ripeto non voglio oggi concentrarmi in questo momento sulle cose del contorno la cosa che invece mi preme discutere con voi è ma io il dizionario una volta che lo leggo da file quindi nel corrector nel costruttore io avrò la lettura da file voi dite perché la leggi con gli strumenti di qt e non con ifstream perché i file di testo se li mettete nelle risorse qua io ho messo il file di testo nella risorsa l'ifstream della stl non lo vede perché fa parte dell'eseguibile non so se ho spiegato la cosa cioè il sistema di risorse di qt funziona usando gli strumenti di qt quindi se io metto un'icona nell'eseguibile con lo strumento delle risorse quell'icona la posso leggere con qt quindi qicon se metto un file di testo nelle risorse quel file di testo lo posso leggere con qfile perché appunto questo non è un vero file è un file virtuale che esiste nell'eseguibile però di questo abbiamo già discusso del sistema di risorse questo è soltanto una puntualizzazione ma il problema è ok quando parte questo corrector questo corrector viene costruito e deve sicuramente leggersi tutto il dizionario perché noi quell'algoritmo che dobbiamo implementare questo l'algoritmo di ieri è un algoritmo che andrà a calcolare la distanza tra la stringa inserita dall'utente sbagliata e tutte le parole che stanno nel dizionario quindi la bella responsabilità quindi intanto discutiamo su come modellare questo dizionario da quel che ho capito voi il set non l'avete usato nei corsi precedenti ci può stare però questo è un momento in cui cresciamo e impariamo strumenti nuovi ora che cos'è il set? vi ricordo l'abbiamo usato perché l'abbiamo usato per gli ID delle schede del notepad il set è un contenitore ordinato che sfrutta gli alberi di ricerca che noi faremo li faremo fra tre settimane, quattro settimane forse di meno che sono molto efficienti per trovare un elemento in un insieme quindi risponde rapido quindi dizionario io devo trovare una parola in maniera rapida e quindi il set risponde a questa caratteristica se fosse stato un vector come avremmo fatto la ricerca? dovevamo implementare noi la ricerca ordinata binaria e vabbè, non mi va, so pigro c'è il set tra l'altro gli alberi binari sono un po' più efficienti della ricerca nel vettore e quindi usiamo il set però in realtà questa non è una decisione su cui io sono irrimovibile anzi c'è una cosa su cui vorrei suzzicare la vostra attenzione questo algoritmo avrà la sua complessità che è quella che è non ci possiamo fare nulla però se noi invochiamo l'algoritmo di distanza tra stringhe tra la stringa inserita dall'utente per esempio dove sta quella che ho inserito prima mi suggerisci mi suggerisci le parole giuste ora dobbiamo farci furbi che significa se noi andiamo a cercare a calcolare la distanza tra questa parola e tutte quelle del dizionario nel dizionario ce ne sono ne ho aggiunte due stamattina ho aggiunto percepitevolissimo che non c'era gravissimo errore perché esiste come parola ovviamente questa non esiste supercalifragilistica e sperolidoso che tra l'altro anche in inglese è proprio così proprio uguale identica sono queste 279.433 parole ora calcolare la distanza tra stringhe tra la parola che scrivo io e 279.433 parole è un lavorone capite che la complessità è o di m per n però in più ci dovete mettere per il numero di parole quindi sarà o di m per n per cardinalità del dizionario è un bel lavoro ok quindi può succedere che se faccio così facendo clic destro cosa succederà? clic destro aspetto 10 secondi poi appare il menu non è quello che l'utente vuole ovviamente non è quello che succede con Word non è quello che succede con lo smartphone né con Google la risposta deve essere istantanea quindi se deve essere istantanea questo è il corso adatto in cui noi ci preoccupiamo anche dell'efficienza degli algoritmi non solo della correttezza dobbiamo cervellarci quindi vi chiedo quale possibile strategia possiamo utilizzare per evitare di confrontare la parola scritta con tutte quelle del dizionario per calcolarne la distanza mi viene in mente un trucco che possiamo usare? bravissimo perché quello che ha detto il vostro collega è valido perché dobbiamo fare un'ipotesi di lavoro se io sto scrivendo una parola e sbaglio tipicamente gli errori non stanno nella prima lettera perché non stanno nella prima lettera? proviamo proviamo a scrivere una frase molto veloce provo a scrivere una frase molto velocemente cosa sta succedendo? il nostro cervello quando scrive qualcosa molto velocemente quando cerchiamo di scrivere sullo smartphone e anche sbagliamo tipicamente la prima lettera la azzecchiamo e se non la azzecchiamo cosa facciamo? se io avessi scritto anziché di velocemente avessi premuto la B mentre sto guardando mi viene di andare subito indietro perché sto iniziando a scrivere quindi tanto vale andare indietro e correggere anche dello smartphone e così se voi toppate la prima lettera certo gli strumenti di correzione dello smartphone sono un po' più sono dinamici mentre scrivete di correggere vi suggerisce sono un po' più complessi però tipicamente se uno toppa la prima non va proprio avanti va indietro e la prima la corregge quindi noi potremmo fare una ipotesi che la prima lettera è corretta se così fosse allora noi non confrontiamo tutte le parole del dizionario ma solo quelle che iniziano con la stessa lettera è già un bel non è proprio diviso 26 parole non è proprio la complessità diviso 26 però comunque abbiamo più che dimezzato il tempo di attesa quindi se prima erano 10 secondi adesso saranno 2 secondi sto sparando io non so davvero quello che succederà oggi quindi potrebbe andare bene potrebbe andare male quindi ci sono alcune considerazioni da fare se io devo confrontarlo soltanto con alcune parole non con tutte potrebbe essere il caso però non è detto che lo sia c'è un detto nell'ingegnere del software che l'ottimizzazione prematura è sempre sbagliata cioè tu prima prova senza ottimizzare poi se necessario ottimizzi perché l'ottimizzazione richiede complessità quello di cui sto parlando ragazzi è di fare una mappa di set lo so che la cosa vi sconvolge un pochettino una mappa di set cioè una std map di set che mette in corrispondenza cosa? la lettera iniziale e tutte le parole del dizionario che iniziano per quella lettera quindi io avrò alla lettera avrò un set con tutte le parole che iniziano per A la lettera B eccetera il vantaggio di questa soluzione è che io quando devo confrontare la parola con il dizionario vado direttamente al sottodizionario di quelle parole che iniziano con quella lettera è necessario fare questo? io direi di aspettare però intanto ne abbiamo parlato vi ho sensibilizzato quindi sappiamo che potrebbe essere una direzione nel caso il nostro sistema è lento sappiamo che potrebbe necessitare di questa miglioria per adesso non lo facciamo però sappiamo che c'è questo problema un altro problema quindi il primo problema è confronto con tutte e se non confronto con tutte come faccio a limitare il confronto? per esempio una mappa di set non è la sola soluzione altro problema c'è una matrice di devo allocare questa matrice di m più 1 n più 1 come la faccio? quindi faccio una locazione dinamica quindi faccio new int perché sono distanze new int praticamente devo fare una locazione di una matrice quindi un array bidimensionale di m più 1 n più 1 quindi calcolando la lunghezza delle stringhe che mi sono state date e questo lo posso fare oppure crea un array bidimensionale statico che ha dimensioni fisse pari al massimo numero di caratteri in una parola che se è precipitabilissimo ovviamente è 23 se considero anche supercalifragili che ispiralidoso tepozzino e 30 e qualcosa però certo quella non è una parola che esiste in dizionario quindi sono stato un po' forse non ho fatto bene inserirlo in dizionario e e soprattutto questa questa matrice statica dove la metto? la metto nel metodo che calcola la distanza? perché se la metto nel metodo il metodo è una funzione quella funzione quando si chiama la matrice statica viene allocata sullo stack quindi ogni volta che la chiamo per tutte le 279.000 chiamate alloca sta matriciona sullo stack è un'allocazione anche quella non è dinamica ma comunque è un'allocazione allora forse bisogna metterla in un punto che quello è e rimane quello per esempio l'area statica l'area dati statici del processo è fissa non c'è una allocazione di allocazione sta lì e nessuno una tocca però anche qui il discorso è lo stesso sappiamo che c'è questo problema è necessario cervellarci? non lo sappiamo finché non proviamo quindi io direi proviamo con la cosa più ignorante di tutte che non si pone questi problemi che vi ho appena discusso io non lo so come andrà a finire potrebbe impiegare 20 secondi potrebbe impiegare 50 secondi oppure potrebbe essere anche rapida e quindi a quel punto noi non ottimizziamo perché impariamo la lezione è una lezione anche questa quella di oggi non ottimizzare se non è necessario è una lezione importante che nei vostri progetti a volte voi vi ponete il problema di ottimizzare ma nemmeno ci provate a non ottimizzare e quindi magari vi state scevellando per una cosa che non serve quindi implementiamo questo algoritmo nella maniera più ignorante di tutte sapendo che ci sono dei punti che potremmo potremmo migliorare all'occorrenza questa è un'immagine quindi non posso copiarmi questo pseudocodice sarebbe stato comodo perché comunque è facile trasformarlo in C++ questo pseudocodice vabbè quindi devo creare una funzione distanza tra string quindi la distanza è un intero la chiamo distance tra string quindi string è x e string è y volete la possiamo chiamare proprio così x y è proprio uguale uguale identico alle slide che abbiamo e questa adesso ce l'andiamo a implementare nella maniera più ignorante di tutte o questa è una funzione di utilità non è quella che trova le 5 più distanti quella che trova le 5 più distanti dovremmo metterla quello sarà un altro problema che dovremmo affrontare oggi come trovare le 5 più distanti le meno distanti quindi nella funzione suggest dovremmo andare a lavorare però un passo alla volta iniziamo con la funzione di distanza la prima cosa da fare è allocare questa matrice di m più 1 per n più 1 interi quindi m è la lunghezza di x n è la lunghezza di y quindi int d int star star d è un array dinamico bidimensionale l'avete mai fatti? è il momento di riprenderli devo prima allocare le righe di puntatori e poi per ogni riga allocare tutti gli elementi di quella riga quindi devo fare anche un ciclo quindi new int star quindi alloca una riga di puntatori ad array monodimensionali che è grande quanto è grande? è grande che abbiamo detto m righe? m righe m più 1 righe x size esiste size certo più 1 poi per ciascuna di queste righe quindi per ciascuna di x size più 1 devo allocare anche la riga iesima quindi ho allocato un array verticale di puntatori che poi saranno i puntatori alle righe orizzontali della matrice quindi d t uguale new int di y size più 1 da che mi trovo dovrei inizializzare perché le distanze vabbè inizializzazione la facciamo dopo facciamo separatamente quindi questa è l'allocazione allocation of distance matrix questa è l'allocazione e anche questa è una cosa delicata perché così come la sto facendo questo chiederà sistema operativo ogni volta che calcola la distanza di 270.000 parole per favore mi allochi un array di x size più 1 e poi per ciascuno di questi mi allochi un array di y size più 1 il sistema operativo farà un po' di lavoro per soddisfare questa richiesta però per adesso ignoriamo questa questa inefficienza sì ho sbagliato qualcosa no perché questo stiamo allocando questa è un array monodimensionale come se fosse array int star a uguale new int questo è un array di puntatori questo è proprio un array di interi questo è un array di interi e quanti ce ne sono di array di interi uno per ciascuna riga quindi ogni riga è un array di interi di tipo dinamico quindi star capisco che lo so gli array bidimensionali con i puntatori sono un po' un po' cattivelli però comunque una conoscenza che abbiamo nei corsi precedenti e adesso l'abbiamo recuperata dobbiamo inizializzarla inizialization inizialization iniziali vabbè ah anche lui ha il il suggeritore che non mi sembra che abbia funzionato bene initialization che c'è nel dizionario non ha funzionato bene vedete non è banale implementare i suggeritori anche quelli professionali non è detto che funzionino bene questo è il suggeritore di visual studio ha fatto Microsoft eppure non è che è tanto carino non ha funzionato bene in questo caso ok come la inizializziamo sta matriciona sta scritto qua nella prima fori uguale 0 to m quindi praticamente la prima la prima riga i sono le righe quindi la prima colonna infatti j è uguale 0 la prima colonna sono tutti i la prima riga sono tutti i j e gli altri sono tutti i zeri dobbiamo inizializzare anche gli altri no perché in realtà gli altri verranno praticamente assegnati in base alla quello che c'è prima quindi possiamo anche non inizializzare il resto della matrice quindi la prima riga forint i la prima riga i uguale 0 la prima la prima colonna scusate ok i minor di m è sto la spia di m che ditelo ce lo salviamo qua così così non 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 ci non ci confondiamo m più 1 quindi m è questo usiamo la stessa nomenclatura della slide ci può essere di supporto ok quindi beh dobbiamo fare un array sono m più 1 quindi dobbiamo inizializzare tutti quanti quindi intanto ci mettiamo m più 1 ci mettiamo n più 1 e qua ci mettiamo m più 1 quindi tutta la prima colonna quindi d d i j 0 j tutta la prima colonna è uguale a i questo ci dice il nostro algoritmo che significa se vi ricordate che data una stringa piena non data una stringa vuota basta fare i inserimenti e poi specularmente quindi possiamo copiarci questo e sostituire in maniera molto attenta le cose un errore qui ragazzi farà sì che vi suggerisce le cose più strane quindi bisogna stare comunque molto attenti in quello che facciamo e questo invece è 0 j quindi la prima riga sono tutti i j e poi e poi c'è il resto c'è la programmazione dinamica quindi partendo sapendo da la seconda riga for i uguale 1 i minore di mp1 i più più for int j uguale 1 j minore di mp1 j più più dobbiamo dobbiamo confrontare l'ultimo carattere delle due stringhe fino a i x e fino a j y quindi if se ve la parentesi non è detto if x fino a i è diverso da y non fino a i cioè il diesimo carattere di x è diverso dal jesimo carattere di j notate che le stringhe della stl ci danno l'operatore di accesso come se fosse un array di caratteri perché lo è non è fatti un array di caratteri quindi questo è il diesimo carattere di x e questo è il jesimo carattere di j di y quindi se sono diversi allora devi allora qualcosa altrimenti altrimenti di di j è uguale a di di i-1 j-1 cioè se sono uguali gli ultimi due delle due stringhe non fare niente quindi la distanza tra x fino a i e y fino a j è uguale alla distanza che c'era prima ignorando l'ultimo carattere se invece l'ultimo carattere non è da ignorare perché è diverso significa che io devo fare o un inserimento o una eliminazione o una sostituzione siccome sono ignorante e non so quella delle tre minimizzo il risultato quindi altrimenti è uguale al eh qua mi piacerebbe usare mi piacerebbe tantissimo usare la funzione in min dell'Stl ma la funzione in min dell'Stl prende due aggrumenti per ingresso ok adesso non so se esiste la funzione c++ min tree arguments dissi se esiste no a coreoflow ovviamente ci dà la risposta ci trova la funzione che potremmo scrivere anche noi siamo veramente molto eh ah c++11 che cosa fa i soreri che cosa veramente wow aspetta fammi vedere bene questa d eh c++11 noi lo usiamo you can do questo veramente or stdmin si può fare si può fare il minimo di una sequenza il minimo type t veramente wow ci credo poco siccome ci credo poco voglio prima testarlo devo testare il compilatore non sto testando cioè so che funziona il problema non so se il mio compilatore che è un po' vecchiotto supporta questa funzionalità eh quindi il minimo tra 5 2 e 3 mi sa di no che dice qua forse devo scriverlo in un altro modo forse devo scriverlo non si può scrivere come valore ma si deve scrivere come si deve scrivere così forse int 5 2 3 e vabbè io ci ho provato evidentemente il mio compilatore non supporta questa nuova funzionalità eh perché il c++11 non è che cioè non è che uno dice supporta c++11 in toto i compilatori supportano alcune delle funzionalità dei nuovi standard ma non andiamo inserire la libreria cioè per utilizzare la funzione min è proprio la la st è proprio la 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 ho capito quello che dice ma è proprio cioè non è manco io stream questo è proprio standard standard non è non è c standard library questa è quella vecchia questa è la libreria del c a parte che lui dice il fatto che lui dice che non è che dice che non la trova dice che non trova una che supporta cioè se ci faccio go to declaration lui me la trova quindi ce l'ha lui questa ce l'ha, ce l'ha questo è proprio standard non bisogna includere proprio niente oh ragazzi io ci ho provato la dobbiamo scrivere noi ci scriviamo una funzione di utilità che fa il minimo tra tre interi quindi dove ce lo scriviamo lo scriviamo per esempio qui inline è quando noi mettiamo inline accanto a una funzione quella funzione significa che verrà è come se verrà compilata dentro la funzione che la chiama quindi non c'è la cosa dello stack fa risparmiare tempo ecco perché la sto dichiarando inline quindi inline int min int a b anzi li passiamo per riferimento così evitiamo però per riferimento comunque si crea un indirizzo vabbè non è qui davvero questo che fa la differenza quindi penso che basti fare return forse bastava effettivamente io prendo il più piccolo tra a e b e poi ne faccio il minimo con c non ho detto un'elesia questo è il minimo tra tre o no prendo il più piccolo tra a e b e poi prendo il più piccolo tra questi due e questo questo è il minimo quindi a me suona che dite? sembra di sì ripeto ogni errore qui non funzionerà un bel niente quindi non è qua l'Std ma il min della nostra classe quindi è infatti il min di correct per quello che vede dobbiamo fare uno più min tra d di meno uno dei quello che sta a sinistra quello che sta in alto a sinistra quello che sta quello che sta sotto di meno uno è quello che sta sopra di i g meno uno è quello che sta a sinistra e quello che sta in alto a sinistra è i meno uno g meno uno quindi facciamo identico troppo alle slide ma è uguale cambia solo l'ordine quindi di i g meno uno poi di i i meno uno j e poi di i meno uno j meno uno ok sì il risultato sarà la distanza che si trova in alla fine quindi d di m ed n e righiamando da 0 a m questo è distance hungry dynamic programmi come facciamo a provarlo? io direi prima ancora di andarlo a mettere dentro il suggeritore calcoliamo la distanza che noi sappiamo essere che so due tra una parola data e un'altra meglio che ci proviamo che non sia mai che abbiamo fatto qualche errore quindi 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 questa questa funzione la facciamo statica perché non usa nessuno dei non usa nessuno degli attributi dell'oggetto e potendola fare statica possiamo quindi nel main andare ad utilizzarla tra l'altro il main include il corrector quindi il main prima ancora di fare tutto quello che deve fare dobbiamo fare adesso un piccolo test quindi corrector mi dici la distanza tra mi dici la distanza la distanza la stampo qui mi dici la distanza tra due string che ne so tra suggerisci suggerisci e suggerisci c'è dell'accordo che la distanza è due perché dovrebbe aggiungere una e qui e poi una e alla fine dovrebbe essere dura a distanza vediamo c'è qualche errore vabbè ho fatto qualche errore di sintassi corrector mini legal call of non starting member function si beh devo chiamarlo si ah ok no scusate si una funzione statica può chiamare solo un'altra funzione statica ed effettivamente anche questo min è una funzione che non usa le variabili dell'oggetto è una funzione di utilità quindi deve essere statica anch'essa si è arrabbiato vediamo dove si è arrabbiato che not open vabbè perché è aperto pensavo peggio sì ok zero qualcosa non è andato ok non può essere zero la distanza tra questi vedete come è importante testare questo si chiama unit testing non è proprio è un inizio di unit testing che è una tecnica di test molto importante cioè testare le cose più piccole sfruttando tutte le ipotesi del problema quindi questa funzione andrebbe testata con stringhe alterate artificialmente di cui so già la distanza e chiedo all'algoritmo qual è se tutti i test vanno bene allora diciamo che quella funzione funziona ma non è il nostro caso non sta funzionando e dov'è che sbagliamo abbiamo fatto un errore da qualche parte e e e dov'è che sbagliamo di jd-1 j-1 1 più min abbiamo sbagliato il min veramente abbiamo sbagliato il min tra a b e c e il minimo è il minimo tra il più piccolo tra i b e poi tra i c non vedo perché dovrebbe essere sbagliato questo e vabbè proprio per essere dai proprio sicuri corrector min tra 5 2 3 è privata giustamente vabbè per adesso rendiamo pubblica poi la rimettiamo privata minimo è 2 quindi quello funziona ma ci manca pure che non sappiamo scrivere il minimo tra 3 quindi il problema non è ovviamente il min il problema è la distanza e vedete quando uno fa se uno non ci prova delle cose non sbaglia abbiamo fatto sicuramente un errore x size m più uno inizializzata la prima riga la prima colonna con i la seconda con j le abbiamo inizializzate tutte sì quindi da 0 fino n e da 0 fino m e m più uno ah 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 eh quindi una cosa così piccola può mai eh beh sì se i problemi sono risolti con le soluzioni dei sottoproblemi io già ho visto 2 ok vabbè è stato un errore di svista non è un errore logico quindi sono questi due errori meno gravi però sono quegli errori che uno non li vede se non se non allena l'occhio ok facciamo un'altra prova eh anziché fare suggerisci ci metto che ne so la g la trasformo in in v quindi allora la distanza deve diventare 3 3 io l'ho vista l'avete vista anche voi 3 eh facciamo togliamo la u e aspetta se togliamo la u e ci mettiamo la g la distanza dovrebbe ancora essere 3 su g no no aspetta su su no dovrebbe essere qual è la distanza devo mettere la u qua la v la do trasformare in e e questo in i quindi deve essere ancora 3 la distanza perché c'è la sostituzione può trasformarla 2 3 oh ragazzi questo non pretende di essere un test esaustivo eh gli unit testing si fanno in tutt'altro modo però noi questo ci possiamo permettere oggi quindi per noi questa è corretta quanto tempo ci ha messo non la possiamo misurare ragazzi perché è la distanza tra due stringhe possiamo invece misurare adesso che lo facciamo quanto ci mette a calcolare le 5 più le n più eh meno distanti quello sì che lo misuriamo infatti abbiamo un timer già predisposto abbiamo un contenitore dove andare a mettere suggerimenti un timer che parte prima del codice che noi ovviamente non è questo il codice questo era un placeholder cioè a posto di quello che sarebbe lo suggerimento e poi c'è questa stampa di debug che ci dice ma quanto ci ha messo in millisecondi diviso quindi mille in secondi con la virgola quanto ci avrà messo e dipende da quanto siamo stati bravi e ovviamente da quanto è veloce la macchina e ora tocca a noi quindi dobbiamo calcolare innanzitutto dobbiamo calcolare la distanza tra la parola word e tutte quelle che ci sono nel dizionario abbiamo detto facciamo gli ignoranti non ci mettiamo a dire la prima lettera è uguale ignoranti quindi come si fa a iterare tutte le le parole del dizionario non so se avete mai usato una cosa di questo tipo avete mai usato l'auto questo si chiama for generalizzato è disponibile dal cpp11 in poi e ci consente di evitare di scrivere quella cosa bruttissima che sarebbe l'alternativa sarebbe for std set int iterator i uguale dictionary punto begin questo solo per dire definire l'iteratore poi devo dire i minore di dictionary punto end i più più anzi lo chiamo it per dire che questo è un iteratore non è talmente è grosso sto forro che manco ci entra nello schermo o perché ma da terrore non lo so che cosa vuoi dictionary beh non si chiama dictionary come l'ho chiamato dictionary ah giusto non è un set è un set di string quindi bisogna sempre stare attenti definito un iteratore su un set di string inizializzato con il begin che è l'iteratore al primo elemento finché non è non è minore devo dire finché non è diverso dal dall'end che sarebbe il post ultimo end non è l'ultimo è il puntatore al post ultimo un'area di memoria invalida addirittura vedete quanta complessità queste sono delle critiche che sono state mosse al cpp e infatti poi è arrivato questo cioè il cpp è un linguaggio che evolve ascoltando le esigenze dei programmatori che queste cose le sbagliavano come voi anche io tutti le sbagliavamo io ho sbagliato non mi ricordavo string ho sbagliato qua proprio il for invece così è tanto carino per ogni parola nel dizionario auto sta per dire auto significa che tutto questo vedi tu che cosa devi fare tu compilatore mettici quello che ci devi mettere quindi questo io lo commento per dire old approach old approach to iterate over stl container il vecchio approccio per iterare iterare lungo un contenitore dell'stl questo è il nuovo approccio la end sta per un riferimento a se non c'è la end significa che io copio il valore della parola non mi piace l'idea di copiare una stringa tutto il dizionario copio le stringhe no quindi riferimento ok quindi v sarà proprio la stringa non copiata che sta nel dizionario quindi posso chiamare la distanza la distanza tra tra v e word ok ma dove la metto? devo calcolare le n più piccole e questo è un corso anche di tecniche di programmazione di algoritmi dobbiamo noi adesso inventarci un algoritmo per calcolare l'n facciamo una cosa più semplice supponiamo n uguale a 1 inizialmente ok quindi calcoliamo la più piccola e poi vediamo come in bastire di calcolare le n più piccole perché sono due problemi diversi il problema questo problema della più piccola si chiama minimo il secondo problema si chiama n minimo cioè i n più piccoli che non è proprio banalissimo vedremo dovremmo creare una lista circolare non è proprio una cosa banale però per adesso dobbiamo testare il funzionamento del nostro algoritmo quindi per adesso supponiamo n uguale a 1 anche se noi non lo usiamo n in questo momento calcoliamo il più piccolo quindi se dobbiamo calcolare il più piccolo ci serve ci serve calcolare dobbiamo mantenere in una variabile la distanza in quel momento della parola più vicina quindi int min dist la inizializziamo non a 0 ovviamente la inizializziamo con la distanza più grande che esista nella storia quindi std numeric limits di int max questo sarebbe l'equivalente di infinito per gli interi è il numero più grande rappresentabile numeric limits è della stl non mi sono inventato niente degli interi dammi i limiti i limiti per gli interi ci sono max e min cioè il numero più grande rappresentabile è max quindi è come l'infinito questo è il modo con cui si calcano i minimi magari voi siete state abituati a calcolarlo in minimo inizializzando con il primo elemento la distanza dal primo elemento e se non ci sono elementi ora in questo caso ovviamente ci sono il dizionario non è vuoto ma se se il contenitore è vuoto voi accedete al primo che non esiste errore quello è un bug quindi il modo con cui si calcano i minimi è inizializzare con più infinito il massimo inizializzare con meno infinito e poi qua dentro evidentemente fare le giuste le giuste cose ok e poi questa parola dove la metto o faccio così closest word ogni volta la giorno oppure creo un riferimento però non ci complichiamo la vita tanto questa cosa quante volte verrà aggiornata ragazzi poche volte perché partirà subito con una distanza che ne sono dieci poi nove otto sette sei cinque quattro tre due uno a massimo una decina di aggiornamenti ci saranno di questo minimo quindi non mi devo preoccupare di quante volte io vado a scrivere in questa variabile quindi if anzi calcoliamo int d uguale distance questa è la distanza tra la parola data l'ingresso e la parola su cui sto tirando il dizionario se la distanza è minore della più piccola che ho trovato fino a questo momento allora devo aggiornare questa più piccola distanza con d e soprattutto devo aggiornare la parola più piccola la parola più vicina sarà appunto v siete d'accordo? questo è un modo per calcolare la parola più vicina e a questo punto una volta che l'ho trovata voi dite la trovo sempre sì sì magari una parola è sbagliata ma la trova una parola vicina quindi a questo punto non rimane che dire nei suggerimenti mettici questa parola e closest word ovviamente proviamo? non ho idea di quello che succederà potrebbe sbagliare, potrebbe azzeccare, potrebbe metterci troppo proprio non ho idea creiamoci un nuovo documento mi piacerebbe che mi suggerisse la parola giusta beh gusta gusta credo che proprio è qui ragazzi non la trovo perché è nel dizionario pronti? via ora calma state buoni è sbagliato il suggerimento ma non è sbagliato in realtà perché p crebbe rispetto tra la parola più vicina a p crebbe è effettivamente a crebbe perché basta cambiare la la p con la a e la i con la c e diventa a crebbe 2 invece piacerebbe dista bisogna aggiungere la a dopo la i piacerebbe la e dopo la c piacerebbe ed è 2 e qui abbiamo un on par abbiamo un pareggio e noi i pareggi non li abbiamo gestiti quindi la prima che trova nel dizionario quella piglia siccome a crebbe inizia con a e p inizia con p trova a crebbe che dista 2 e la mette nella parola più vicina poi trova piacerebbe che dista 2 ma siccome già c'è non l'aggiorna quindi ha funzionato quanto ci ha messo? tre decimi di secondo ecco questo è l'esempio che vi dicevo prima se vivono tutte quelle ottimizzazioni abbiamo fatto proprio una cosa ignorante abbiamo abbiamo allocato memoria a ogni chiamata voi dite perché ci ha messo così poco nonostante ci hai fatto la testa tanta su queste allocazioni perché ragazzi i compilatori i compilatori di oggi sono dei strumenti così è da 30 anni che li fanno e li fanno bene talmente bene che se vedono che una funzione alloca 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 allocano una tantum e sfruttano una specie di buffer cioè sono anticipano quello che sarà l'utilizzo di quella funzione quindi ecco facciamo un esempio nonnaggia avrei dovuto copiarmi la se io anziché disabilito le ottimizzazioni quindi la modalità debug è senza ottimizzazioni del compilatore quindi quello che io scrivo nel codice quello viene eseguito ora vediamo se ci metto tre decimi di secondo spero di no di non essere smentito a parte che ci sta mettendo un sacco di tempo per leggere il dizionario dal disco vabbè l'ha fatto e mi com'era picrebbe a e picrebbe ok pronti quanto ci ho messo? 5 secondi non tre decimi di secondo perché questo è il codice proprio che ho scritto io che l'abbiamo fatto un po' ignorante però il compilatore è come se sopperisse alla incapacità del programmatore andando a ottimizzare quello che il programmatore non ha ottimizzato e questo è anche il motivo per cui non serve oggi come in passato ottimizzare proprio in maniera spinta perché lo fa il compilatore quindi oggi lo strumento del programmatore è molto più semplice prima invece chi doveva fare i videogiochi sul NES super mario porelli non potevano affidarsi a questa funzionalità loro sì che dovevano dire è così però la cache così quindi devo mettere questa tabella se la uso sempre la devo mettere nella cache se no poi la logo loro dovevano fare quei discorsi noi è bene sapere che esistono quei discorsi però evidentemente non li dobbiamo fare quindi ottima notizia per noi il tempo di esecuzione non è un problema a meno che non vogliate farlo più istantaneo dei tre decimi uno potrebbe anche andare sotto i tre decimi uno potrebbe dire i tre decimi è troppo voglio proprio che io clicco e appare allora voglio 30 millisecondi e beh per fare quello dobbiamo sì ottimizzare c'è un problema però ci è piaciuto il fatto che lui considera parole che hanno una lettera iniziale diversa abbiamo detto all'inizio che questo non ci piaceva per l'efficienza invece adesso scopriamo che non ci piace proprio per la correttezza del suggeritore cioè a noi non piace che crebbe viene corretto con a crebbe perché abbiamo detto che la prima lettera probabilmente è giusta quindi il discorso di dire non confrontarlo con tutto ma solo con quelli che iniziano con la stessa lettera forse dobbiamo farlo non solo per l'efficienza ma anche per la correttezza e di nuovo lo facciamo con una mappa di set che sarebbe la cosa più figa e veloce ed efficiente del mondo oppure siccome ci fidiamo dell'ottimizzazione facciamo una cosa un po' più semplice siamo nel ciclo se la parola che stiamo esaminando non inizia con la prima lettera della parola che dobbiamo correggere tu nemmeno calcolarla tu non la calcoli proprio la distanza non te ne frega niente vai avanti quindi questa che stiamo facendo si chiama skip condition cioè una condizione che salta tutto quello che c'è in questa iterazione di ciclo se la prima lettera della parola non corrisponde con la prima lettera della parola da correggere continuo vai avanti skip ok queste sono le cose che nei corsi vecchi di fondamenti 1 si diceva a me non è mio mai usare break mai usare continue perché no così bello vai avanti non andare continue vai alla prossima iterazione rifacciamo adesso l'esecuzione eh sì nuovo documento mi picrebbe e picrebbe io ho sempre dubbi essere essere su dritto quando sbaglio 1 2 3 pronti via parrebbe perché parrebbe a ragione di sta 2 mentre piacerebbe di sta di sta 2 anche questa volta e questo si riallaccia al discorso del vostro collega che diceva forse dovremmo confrontare non solo il primo carattere ma anche i primi due sempre per ipotesi che anche il secondo carattere possiamo ipotizzare che sia corretto quanto ci ha messo ragazzi vi giuro che non l'ho provato a casa io prima ho sparato passiamo da 300 millisecondi a 30 millisecondi ci ha messo 30 millisecondi perché anziché confrontarlo con tutto il dizionario l'ha confrontato soltanto con le parole che iniziano con quella lettera funziona a meno questo funziona per favore s le bozzino suggrito suggerito ah finalmente una volta funzionato quando quando sbaglio sbaglio quindi funzionicchia un elemento deve cancellare la r s si ottiene cancellando la r per lui s viene prima di essere nel dizionario i dizionari funzionano proprio così bastardi c'è prima s e poi c'è essere la parola più corta precede quella più lunga questo però questa è importante questa osservazione perché la distanza di Levestein non è la migliore che esista per i per i correttori perché penalizza la lunghezza cioè in questo caso se noi abbiamo scritto una parola di questo tipo è più probabile che noi abbiamo mancato un carattere piuttosto che ne abbiamo messo uno in più la distanza di Levestein non tiene conto del fatto che nella scrittura uno tende a mancare i caratteri più che a eccedere quindi gli errori sono tutti uguali secondo Levestein non è proprio quello che se verbo è una distanza che pesa le sostituzioni le cancellazioni e gli inserimenti esistono queste distanze però hanno un algoritmo più complesso che non abbiamo fatto quindi questo giustifica il motivo perché non funziona come word perché non è proprio la migliore di tutte le distanze però l'algoritmo è quello quindi cambiando la distanza dovrebbe funzionare a questo punto se vogliamo essere ancora più certosini confrontiamo il primo e il secondo carattere quindi se non coincide il primo e non coincide e odor and odor e però se facciamo l'or significa che magari il primo per noi va bene che sia diverso devono essere proprio uguali la negazione noi vogliamo solo le parole che hanno le due stesse lettere la negazione è che tutte e due le lettere la negazione logica di è uguale ed è uguale è no ha ragione credo abbia ragione quindi ok se non coincide la prima lettera oppure non coincide la seconda quindi basta che una delle due sia verificata e noi scappiamo è giusto ha ragione algebra booleana la negazione di a and b è not a or b giusto sorry quindi v di 1 di 1 diverso da word di 1 beh adesso mi piacerebbe che lo suggerisse bene mi mi vi crebbe essere suggerito bene stavolta stavolta suggerito s ce lo teniamo è piacere finalmente eh non male ragazzi io direi una cosa è inutile scervellarci nell'andare a considerare n diverso da 1 perché perché perdiamo un'altra ora non facciamo le cose che ci servono e non è che sia inutile cioè è sempre utile di cimentarsi con delle sfide però diciamo la verità un correttore automatico dovrebbe addirittura correggere in automatico la parola quello che fa il vostro smartphone non è che vi fa scegliere tra due tre quattro scelte quella è quindi l'utilizzo principale di questo correttore con n uguale 1 comunque il caso più generico eh io quello che vi direi ve lo lascio per esercizio chi di voi se vuole cimentare io offro tutto il mio sostegno psicologico e ovviamente anche implementativo per implementare questa funzionalità però è importante non essere troppo cioè se ci fissiamo in maniera pignola a fare tutto 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 perfetto sto notepad ci lo portiamo fino alla fine del corso bene quindi andiamo avanti però sono contento perché oh il suggeritore ha funzionato e quanto ci ha messo ci ha messo sempre ci ha messo sempre 30 non so se questa era la precedente esecuzione però io penso che non è che cambia ci ha messo 10 millisecondi siamo stati da 30 a 10 millisecondi quindi è istantaneo certo la distanza non è proprio quella giusta si potrebbe ok però comunque già questo è un grande passo in avanti che che abbiamo fatto bene ok quindi andiamo avanti non ovviamente nella teoria delle tecniche algoritme algoritmi che andiamo avanti nel nel corso quindi l'argomento nuovo di oggi è la persistenza che è quello che ci consente poi di chiudere il discorso notepad una volta che implementiamo la persistenza dei metadati possiamo finalmente implementare questo menu dei file recenti che è un po' quello che manca al nostro notepad per essere professionalmente valido ok un'applicazione che si chiude e si riapre e non c'ha i file recenti non è molto valida ok è triste come il notepad di di windows quindi il problema che ci poniamo oggi è come salvare i dati di un programma i dati non i dati intendo base di dati no come salvare la configurazione di un programma quindi la sessione i dati di sessione questi dati si chiamano metadati meta cioè sono i dati dei dati quindi i file aperti recenti le opzioni di configurazione addirittura le tab rimaste aperte questa cosa di solito si fa in un modo preciso in windows si usano si usa il registro di sistema cioè questa schifezza che è detta da tutti i programmatori questo anche quelli chiamano windows io adoro windows ma il registro di sistema è un'invenzione degli anni 80 e fa schifo fa proprio schifo è ancora lì mannaggia non lo tolgono e qua dentro ragazzi ci stanno le opzioni dei salvati e dei programmi ci stanno da qualche parte se noi poi quando lo facciamo scusate devo rispondere a una domanda molto importante veramente importantissima sì 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 ok va bene va bene va bene ok la ringrazio arrivederci poi spiego dicevo quindi che quando noi andremo a salvare le nostre cose nel nostro programma da qualche parte immagino in local local machine software la dicitura con il nostro nome del software ci sarà da qualche parte una o più variabili di registro di sistema con le opzioni salvate è una schifezza però questo abbiamo oppure sempre in windows c'è un'altra alternativa che tra l'altro è usata anche da altri sistemi i file.ini i file.ini i windows li mette nella cartella application data nella cartella nascosta che potete vedere stanno anche in sistemi unix tipicamente o nella home dell'utente o nella cartella di sistema epsi quindi se volete fare uno scherzo molto brutto a un vostro amico gli cancellate tutta la cartella application data e sto amico praticamente ogni applicazione che aprirà non avrà memoria del passato quindi tutte le configurazioni che aveva salvato non verranno salvate quindi non vale per i browser perché i browser mettono tutto su cloud ecco questa è una cosa che sta cambiando mano a mano i programmi spostano su cloud le proprie configurazioni quindi se voi avete i vostri preferiti su google chrome questi non stanno in un file.ini del sistema o meglio magari ci stanno pure però non è l'unico posto stanno su cloud quindi voi vi connettete al vostro utente e magicamente questi preferiti appaiono dinamicamente nel vostro browser ok ma dobbiamo noi scrivere i file.ini o i file accedere al registro no Qt mette a disposizione una classe che si chiama Qsettings che consente di in maniera platform independent cioè siamo su Linux siamo su macOS siamo su Windows dobbiamo usare i file di registro su Windows un'applicazione deve proprio ci sono le funzioni per scrivere sul registro di sistema no non dobbiamo farlo perché lo fa per noi Qt come lo fa Qt? beh innanzitutto bisogna creare una configurazione quella tra l'altro che appare nel registro di sistema quindi dobbiamo dire qual è il nome della nostra applicazione e qual è il nome della nostra compagnia software organizzazione sono importanti questi nomi perché è un identificatore della vostra applicazione nel sistema se voi questo lo cambiate il sistema non avrà memoria di quello che è il passato perché avete cambiato il nome dell'applicazione quindi è importante nel codice usare sempre lo stesso nome dell'applicazione e l'organizzazione quindi settings è un punto di accesso per leggere e salvare dati in sostanza per leggere si usa il get get quindi non è get ma è value dammi il valore poi vediamo cosa per salvare set in realtà per salvare proprio c'è il metodo save per leggere c'è proprio il metodo read però facendo set e get lui in automatico Qt capisce se c'è da leggere o da scrivere le cose sul disco perché sul disco queste cose vengono scritte quindi come facciamo a leggere un attributo di tipo int beh dobbiamo prima chiederci se c'è quindi caro settings tu per caso contieni un attributo che si chiama nome attributo ora che cos'è questa una sezione innanzitutto diciamo che è opzionale cioè noi in maniera opzionale possiamo usare una sorta di namespace quindi una scatola dei nomi cioè questo è un attributo dentro una sezione che si chiama così ma siamo noi che decidiamo queste cose quando le decidiamo in fase di salvataggio in fase di salvataggio diciamo che salviamo un attributo con un certo nome dentro un certo percorso virtuale è tutto virtuale quindi per salvare set per leggere prima ci chiediamo se c'è e poi chiediamo value ora siccome value è legge di tutto il tutto significa che leggerà in un oggetto che contiene tanti tipi diversi si chiama qvariant qvariant è una specie di metavariabile cioè potrebbe essere un intero potrebbe essere un booleano potrebbe essere una stringa potrebbe essere un double eccetera quindi dobbiamo convertire per poi avere il nostro attributo finito l'unica piccola complicazione che però quanto pare i ragazzi su questo non capiscono e noi oggi lo facciamo quindi comunque noi ci cimentiamo con questo nella pratica come facciamo invece a creare array di dati quindi questo per salvare un singolo attributo per leggere un singolo attributo se invece dobbiamo salvare un array un array di roba per esempio i file recenti è o non è un array certo che lo è è un array di string di file recenti che contengono i percorsi dei file recentemente aperti come si fa a scrivere un array beh bisogna dire begin write array and array in scrittura begin read array and array in lettura quindi la lettura e scrittura degli array è delimitata da questi due indicatori come facciamo a scrivere e beh devi innanzitutto settare l'indice di quello che vuoi scrivere e Qt vi dà la possibilità questi sono array non di valori ma di attributi di quel elemento di quell'array quindi voi quando fate set array index i dopo il set value ci potete mettere anche 10.000 set value saranno tutti quanti attributi di quel iesimo elemento dell'array qui non è un array di interi quello che stiamo salvando necessariamente può anche essere un array di interi è un array di oggetti quindi se qua faccio set value il nome dell'attributo e qua ci metto un intero e non faccio nient'altro allora questo sarà un array di interi ma posso andare avanti con i set value e quindi questo potrebbe essere per esempio un modo per salvare un array di persone ecco perché questo è un vettore di persone oggetti della classe persona che ha i getter di programmazione oggetti get nome get cognome get età eccetera in lettura la stessa cosa bisogna fare il set dell'indice dell'elemento che stiamo andando a leggere e bisogna fare la lettura con value dammi il valore al campo nome so che è una stringa lo converto in stringa al campo età so che è un intero e lo converto in intero fine cioè a livello di strumento è immediato il problema adesso è andarlo a implementare questo è lo scopo dei rimanenti 40 minuti quello che è facciamolo dove lo facciamo questa cosa lo facciamo nella classe settings che al momento è vuota do star settings settings no session l'abbiamo chiamata session beh innanzitutto il nostro pragma once ce lo mettiamo sempre il nostro class session ce lo mettiamo ovviamente è eredita da qualcuno? dobbiamo ereditare da qsettings? no qsettings è un oggetto che usiamo per fare questa sincronizzazione quindi sicuramente il nostro qsettings dobbiamo averlo noi però non dobbiamo ereditare quindi sicuramente include qsettings lo mettiamo come attributo della nostra classe però adesso si presenta un problema il problema il problema è che chi è che ha la responsabilità e inizialto cos'è che dobbiamo sincronizzare dobbiamo sincronizzare i file recenti dobbiamo sincronizzare il le opzioni del menu dove stai? dobbiamo sincronizzare le opzioni del menu quindi font color è un bel po' di roba la funzione di andata a capo automatico cioè quella che se io si attiva lui taglia e va a capo e quindi non si scorre in orizzontale se disattiva invece lui non va a capo e si scorre in orizzontale quindi questa funzione la dobbiamo salvare è una funzione di sessione cioè a noi ci piace così o a lui piace così poi dobbiamo salvare i file recenti che ovviamente adesso non ci sono idealmente dovremmo salvare anche le tab aperte non è banale e poi salvare le opzioni di visualizzazione cioè a me non piace la toolbar e quindi quando chiudo e riapro non la voglio vedere beh un po' di roba da salvare ma queste cose di chi sono competenza sono competenza della finestra principale o del singolo documento domanda per voi qual è la responsabilità che chi è che deve dialogare con la session classe session per dire salvami queste cose leggimi queste cose con la main window la main window deve dialogare benissimo è solo la main window deve dialogare nessun altro ok quindi public costruttore ci sarà un costruttore session costruttore con o senza parametri e che parametri vogliamo dare il percorso del falini mica lo sappiamo noi lo sa tutti dove andarlo a mettere nel registro beh certo dobbiamo dire il nome dell'applicazione il nome della vogliamo mettere nel costruttore cioè o dentro lui già ha codificato cosa andare a creare nel settings oppure bisogna mettercelo qui dipende dalle vostre scelte cioè odiamo la possibilità dall'esterno di decidere come si chiama l'applicazione quindi session è una classe agnostica oppure devi decidere session dall'esterno diciamo dall'esterno string org string app name organization nome dell'applicazione cosa che non gli è piaciuto devo includere string sì devo includere string quindi nella nostra session punto cpp che è vuota al momento include session.h ci mette il costruttore e qui nel costruttore adesso ci devo mettere la creazione del qsettings come si fa a creare un qsettings siccome il qsettings è una variabile non è un puntatore è proprio una variabile automatica questa invocherà un costruttore quindi di solito le variabili automatiche ci inizializzano nella lista di inizializzazione non so se è una cosa che avete fatto cos'è la lista di inizializzazione è una cosa di questo tipo adesso non so se me la fa name non gli piace ma io sono costruttore settings string string a lui non piacciono le stringhe del c++ alla qt e vabbè ce le convertiamo in stringhe del c queste sì che gli piaceranno la lista di inizializzazione si apre con i due punti l'avete mai usata? vabbè adesso come dice la Guzzanti sapevatelo adesso lo vediamo quindi quando noi abbiamo un oggetto che non è un riferimento questo non è un puntatore A è un oggetto automatico cosa succede ragazzi che se voi entrate qua dentro è troppo tardi già è stato costruito ed è stato costruito purtroppo con il costruttore di default il costruttore di default di settings è quello che non prende l'ingresso né organization né app name anzi non so manco se c'è è disponibile un costruttore di quel tipo quindi prima ancora di entrare nel costruttore bisogna costruire gli oggetti dipendenti in questo caso è settings tramite i due punti noi diciamo facciamo una lista della spesa qua avremmo potuto mettere virgola nata cosa costruita sempre con lista di inizializzazione quindi per noi settings è nella lista di inizializzazione invocherà un costruttore a due parametri che sarà quello della slide quindi il nome dell'organizzazione il nome dell'applicazione fatto ora però il problema è quando noi vogliamo leggere e salvare dove leggiamo e dove salviamo le nostre informazioni? se abbiamo detto che session è la classe responsabile di leggere e salvare significa che session dovrebbe mantenere i dati di sessione lo dice la parola session gestisce e mantiene i dati della sessione quindi noi dobbiamo mettere dobbiamo una possibilità è quella di inserire qui dentro tutti quei dati che noi andiamo a leggere e a scrivere e che succederà? succederà che quando l'applicazione parte quando parte il main window main window creerà una sessione questa sessione dovrà andare a inizializzare questi attributi con valori di default cioè la prima volta la prima primissima volta che parte l'applicazione i valori di default devono essere quelli che session impone poi l'utente li cambia dice a session che li ha cambiati session li sincronizza con il settings e quando session si chiude viene distrutto da main window main window nel distruttore invoca il distruttore di session ecco perché sono importanti gli istruttori magari session nel distruttore va a scrivere su disco proprio su disco tutte le opzioni che ha in pancia quindi immaginate che session sia una classe che contiene le opzioni di sessione in quel momento nel programma quando si chiude va a scrivere quando parte legge quando in esecuzione comunica con main window quello che deve comunicare quando si chiude va a scrivere quindi dove voglio arrivare ragazzi voglio arrivare che qua ci dobbiamo mettere le variabili di sessione quindi vuoi salvarti word wrap vuoi salvarti i file recenti dove li metto i file recenti in una lista di string che ne so magari la cambiamo non ho detto che sia una lista ma metto in una lista gli string le chiamo recent files quindi dovrei includere lista e così via per tutte other options to be to be maintained e queste cose vanno inizializzate in dove vanno inizializzate nel costruttore o in maniera un po' più elegante vi insegno a rendere i costruttori snelli cosa che non abbiamo fatto il main window c'è un costruttore gigantesco normalmente i costruttori dovrebbero essere snelli e avere dentro la chiamata ad un metodo di inizializzazione che fa appunto quello che si fa le opzioni di default ecco in questo caso quindi init in questo caso dovrebbe dire qual è l'opzione di default cioè la prima volta nella storia di questo computer di questo sistema operativo che l'applicazione parte il nostro roadmap vogliamo che sia true o false tipicamente è true i nostri reset files quali sono la prima volta che parte l'applicazione non ci sono quindi non devo inizializzarli è una lista vuota e qua chiamo init forse è meglio chiamarlo init default magari forse è più chiaro che questo va a inizializzare i valori predefiniti delle opzioni di sessione ok una volta che ho fatto questo però io devo rendere possibile al a chi comunica con questa session quindi il main window main window dice è cambiata questa opzione tu session ti dico che è cambiata così tu decidi se è salvato o non salvato devi decidere tu quindi ci vogliono sì dei getter e dei setter questa volta quindi getter bool wordwrap return wordwrap e la lista di file recenti la restituiamo come riferimento nei cpp11 in poi quando si restituiscono dei contenitori non si fa più la copia grazie al cielo una volta invece nei cpp precedenti succedeva che se io restituivo una lista di oggetti questa veniva copiata in una nuova lista cioè proprio c'era una copia nella restituzione di un contenitore era terribile inefficiente quindi io a me è rimasta questa abitudine di restituire un riferimento però anche se ci mettete una restituzione di un valore lui non dovrebbe fare la copia il compilatore ci mette lui il riferimento per voi riferimento significa non fare la copia della lista che c'hai cioè restituisci proprio il riferimento a questa lista che sta proprio dentro questo è proprio un getter di tipo hard in gergo cioè io restituisco un riferimento a quello che c'ho dentro che non è proprio bellissimo però ripeto questo si fa per evitare che restituisca una copia vabbè in realtà se usiamo cpp11 lui non fa copie quindi e se la fa è perché è necessario farla scusate non ci mettiamo questa complicazione quindi recent files return recent files getter e poi center quindi void set word wrap bull enabled possiamo fare qua direttamente word wrap word wrap uguale enabled enabled void set set recent files i file recenti hanno un setter cioè io dico a session tieni questa è tutta la lista dei file recenti no cos'è che avviene nella main window cioè quando la main window comunica a session qualcosa che ha a che fare con i file recenti comunica tutta la lista dei file recenti o comunica solo qualcosa in meno di sistema e mani ferme tecnicamente gli comunica il percorso del nuovo file che ha aperto cioè io apro un file e allora comunica session e session io ho aperto un nuovo file quindi aggiungi un nuovo file alla lista dei file recenti quindi add add recent file è un add più che un setter quindi file path quindi questo ci dobbiamo ci dobbiamo ragionare che dobbiamo ragionare perché la nostra lista di file recenti non può crescere all'infinito se noi ogni volta ci aggiungiamo un file recente e quella sta lista diventa gigantesca vabbè facciamolo così poi lo fixiamo questo bug però poi dovremo anzi ce lo mettiamo già nel cpp perché vi pronuncio che ci sarà un po' di ragionamento su questo quindi add recent file per adesso facciamo un semplice recent files recent files push push back o push front anche questo deve ragionare cioè c'è un ordine temporale nell'apertura dei file se noi li mettiamo in coda i nuovi se li mettiamo in coda e poi li inseriamo nell'ordine nel menu quindi l'ultimo della coda è anche l'ultimo del menu il più recente sarà l'ultimo e non è quello che vogliamo quindi vi da pensare che forse qua ci vuole un push front però dipende tutto da chi lo usa questa lista poi chi la mette nel menu devono mettersi d'accordo queste due entità la main window che mette i file recenti nel menu se li mette nell'ordine in cui c'è questa lista in cui è questa lista l'ultimo è l'ultimo quindi il più recente vogliamo metterlo in testa deve essere il primo ok quindi per adesso è così e quindi abbiamo fatto i getter abbiamo fatto i setter che vuoi ok che è giusto che vuoi expected ma che expected l'ho definito sta qua vado a compilare questa ogni tanto può andare anche in palla il no c'ha ragione member function already defined or declared unity defaults aim identify qui sono quelle sviste che uno proprio ci sta anche tre ore poi dice ah perché non ho messo questo carattere in questa posizione non manca un punto e virgola alla fine della prima funzione quale questo è questo che ho definito è una definizione che vuoi che vuoi questo e anche se ci mette le parentesi graffi lui dice che aspetta la parentesi graffa ah ok per qualche motivo o l'ho dimenticata io o l'ho cancellata involontariamente ho cancellato la chiusura della classe pensa tu e chi avrebbe mai visto una cosa del genere bisogna farci l'occhio con queste cose ok abbiamo getter abbiamo setter sì però chi è che fa il salvataggio non abbiamo fatto né la lettura né il salvataggio vogliamo che siano metodi pubblici la lettura e il salvataggio o vogliamo che sia session da decidere quando leggere e quando scrivere è una questione sempre di responsabilità chi è che ha la responsabilità di scrivere su disco e leggere su disco session quindi se noi rendessimo pubblici i metodi di scrittura e lettura chi è fuori potrebbe decidere lui quando scrivere e leggere ma non è giusto se abbiamo fatto una classe session è perché vogliamo nascondere all'esterno la complessità la decisione di quando scrivere e quando leggere quindi i read e i write ce li facciamo noi dentro privati quindi e i write bene read che deve fare io non ricordo se non penso che il qsettings abbia dei metodi read e write basta fare get value e set lui decide decide proprio qsettings quando fare read e write vediamo un po' eh vedi non c'è non c'è metodi write metodi read quindi siccome decide lui noi lasciamo decidere a lui e allora se lasciamo decidere a lui a che serve il write il write è il momento in cui noi andiamo a fare il setter no probabilmente decide lui forse non servono nemmeno i metodi read e write allora il metodo read in realtà serve sicuro perché dopo che io vado a leggere i default devo comunque provare a leggere i valori che ci sono se ci sono nella 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 memoria quindi se il settings contiene contiene una cosa che si chiama wordwrap io voglio leggermela quindi wordwrap sarà uguale a settings punto value di questo nome qui che abbiamo assegnato lo assegneremo quando andremo a fare la scrittura to bull e nel write quindi specularmente scriviamo settings punto set value wordwrap in questo momento stiamo creando il nome della variabile nel file in quello che è e ci mettiamo questo ci mettiamo questo booleano ora però che succede ragazzi che è una nostra decisione quando il main window farà il set per esempio di questa opzione la modifica sarà soltanto nella variabile di questo oggetto oggetto session ma nessuno andrà a scrivere almeno nessuno finché per esempio non definisco un distruttore che va quando si distrugge a scrivere le opzioni però questa è una decisione che dobbiamo prendere noi anzi la lascio prendere a voi riferite che a ogni set ci sia una scrittura quindi un set sul settings e quindi probabilmente una scrittura sul file system o che tutto accada nel distruttore vantaggi e svantaggi il vantaggio cioè nel senso se non è nel distruttore ogni volta che scriviamo modifichiamo qualcosa deve scrivere tutto quanto al distruttore è più conveniente non è detto che scriva tutto quanto cioè questa cosa c'è uno svantaggio io vedo uno svantaggio dal punto di vista dell'utente mettiamoci l'utente fa delle cose magari l'applicazione crasha può succedere se l'applicazione crasha l'istruttore non viene invocato e quindi non si fa il svantaggio è un po' quando uno anticamente aveva il documento word crashava e aveva perso i dati si incavolava è un po' quello che succederà adesso se io vado a mettere il svantaggio nel distruttore se l'applicazione crasha quel svantaggio non verrà mai fatto se invece faccio il svantaggio o meglio il set nel settings in ogni set mio della classe cioè per esempio qua anziché fare wordwrap enable dove vado a fare il set questo sarà istantaneo però di contro potrebbe doversi avvare tutto quanto sul disco la verità è che un'applicazione non deve crashare quindi io direi evitiamo che crashi e facciamo salvare il distruttore anche perché comunque è educativo la potenza didattico usare il distruttore in questa maniera è molto educativo quindi preferisco per voi questa seconda opzione cioè usare il distruttore per dire è il momento di salvare tutto quindi il distruttore la maledetta tilde vabbè ce l'ho da qualche parte il distruttore l'abbiamo fatto dove abbiamo fatto il distruttore il documento ce l'abbiamo la tilde eccola qua tilde io non ho i tasti per fare la tilde come su una tastiera su macOS non funziona quella combinazione quindi distruttore il distruttore invocherà dove stai? il distruttore invocherà il metodo di scrittura così abbiamo scoperto che i distruttori a qualcosa servono cioè a fare tutte quelle cose che si devono fare alla fine per esempio la scrittura delle opzioni quindi write salva wordwrap read legge init default carica le opzioni predefinite il costruttore prima carica le opzioni predefinite perché c'è uno stile dei valori di default poi prova a leggere perché se non c'è niente la prima volta lui non legge e quindi rimangono le opzioni predefinite beh intanto proviamo ad usare questa cosa solo con il wordwrap che è un'opzione booleana poi mettiamo i far recenti che è un po' più complesso quindi non andiamo avanti qui andiamo nel main window a questo punto nel main window gli dobbiamo dire sicuramente deve includere questa file questa class session e la deve mettere da qualche parte session deve essere dinamica o automatica sta variabile secondo voi allora come dice automatica viene messa nello stack e no attenzione perché main window è un oggetto che verrà messo nel lip quindi tutto ciò che c'è dentro sta nel lip quindi anche se io scrivo questo questo sta ancora nel lip anche se non c'è puntatore e ha un vantaggio che se scrivo così io non devo definire il distruttore di main window e dentro il distruttore devo chiamare il distruttore devo fare delete di session quindi è tutto più automatico se faccio così ok l'unica cosa ricordate devo ricordarmi la lista di inizializzazione nel costruttore di main window quindi se faccio così nel costruttore di main window devo andare a creare virgola vedete che già abbiamo usato la lista di inizializzazione quando si usa il costruttore della super classe perché questo deve avvenire prima del costruttore quindi prima costruisci la super classe poi inizializza session session dove stai? io l'ho chiamato session e ci metto organizzazione unicas si chiama uniclam sapete che in inglese clam è vongola quindi noi siamo tutti quanti afferenti a univongola da un punto di vista di uno straniero era meglio unicas però polemica a parte uniclam beh questa si chiama autopad giusto? così l'abbiamo chiamata bene quindi quando noi partiamo con l'applicazione viene creata questa sessione quando viene distrutta la finestra dovrebbe essere richiamato cioè quando viene distrutta main window tutte le variabili automatiche dovrebbero essere distrutte non questa ma questa sicuramente quindi il loro distruttore invocato beh ci converrebbe per esempio mettere una stampa io voglio essere sicuro quindi ci mettiamo una stampa per vedere se tutto quello che sappiamo dalla programmazione oggetti è valido può essere che di mezzo c'è Qt la finestra c'è Qt quindi noi non facciamo mai un delete main window nel main quindi nemmeno io sono sicurissimo di quello che infatti non è successo e questo perché perché il nostro main se è un po' fregato perché ragazzi a volte è lecito a volte no allora se noi non dialoghiamo qualcosa che allochiamo comunque quando termina il programma l'area di memoria del processo viene rilasciata però non viene invocato il distruttore se noi non diciamo esplicitamente delete main window quindi non essendo invocato il distruttore non viene nemmeno poi distrutto esplicitamente il session quindi per fare una cosa un po' più anche didatticamente giusta dovremmo dire main window win new main window win show potete stare questa cosa la discuteremo la prossima volta e poi e poi dove lo facciamo la delete mi sono fregato con le mie mani non c'è spazio per fare questa delete quindi significa che appunto il controllo della finestra c'è la QT definiamo il distruttore di main window vediamo se almeno il distruttore di main window viene invocato spero almeno questo venga invocato quindi il main non c'è modo beh no il modo ci sarebbe si potrebbe fare a.exec e poi return a parte in mezzo il distruttore però cerchiamo di capire come QT gestisce questa finestra ne invoca il distruttore se ne invoca il distruttore facciamo pace col cervello invece no non invoca il distruttore io vozzino perché non invoca il distruttore beh ovviamente se facciamo così ovviamente per forza return 0 significa che tutto è andato bene adesso potrei vedere sia il distruttore di main window sia il distruttore di QSession di session adesso si vabbè ragazzi quindi un modo un po' più raffinato un po' più corretto di scrivere i nostri main è il seguente quindi run application quindi destroy window e poi si ritorna exit success tutto è andato bene quindi non ci serve più comunque il distruttore della finestra o almeno per adesso non ci serve magari poi un giorno ci servirà perché comunque adesso che noi disfuggiamo esplicitamente la finestra verrà invocato il distruttore di session che è quello che fa il write quindi quindi viene invocato se viene invocato allora caro registro di sistema è vero che adesso tu hai una allora non so se local machine o current user current user software uniclam abbiamo detto vero io non vedo uniclam vedo uniclam vedo uniclam vedo uniclam non c'è niente di salvato però uniclam c'è autopad eccolo qua word wrap eccolo qua true perché true era il default che è stato salvato eccolo qua abbiamo la nostra perché c'è anche notepad 1 probabilmente viene dall'anno scorso non mi ricordo quindi questa la cancelliamo per non fare casino tra di noi unicast che c'è qua dama notepad scacchi pacman addirittura vabbè non incasiniamo altre applicazioni di unicast però questa è la nostra uniclam autopad c'è ci sono due variabili di registro questa non so che cos'è però la seconda è sicuramente proprio quella che noi abbiamo e tra l'altro la possiamo pure editare quindi se vogliamo fare uno scherzo ai nostri amici andiamo nel registro di sistema andiamo a incasinargli le applicazioni modificando a cavolo le variabili di registro quindi ha funzionato ora però dobbiamo fare la sincronizzazione cioè se io cambio dall'interfaccia lui la salva e poi quando la rimantiene cioè questa è la persistenza chiudo l'applicazione la riapro devo vedere le stesse cose quindi quindi dobbiamo adesso andare in main window e chiederci innanzitutto qui dove sta wordwrap dove sei quando io qua ho detto l'opzione di default è true era un momento in cui non avevamo non avevamo ancora discusso la persistenza ma adesso noi questa opzione dove dobbiamo andare a prenderla dobbiamo andare a prenderla dal session che lui sa qual è l'opzione se di default è true è true ma se lui l'ha letta perché qualcuno prima l'ha cambiata noi dobbiamo cambiarla quindi sarà set checked sarà sarà quindi session get il get semplicemente wordwrap quindi se è true checker sarà true se fosse sarà false quindi in fase di inizializzazione di questa casella cliccabile io gli dico il valore è quello che mi dice i fileini il file session tramite la classe l'oggetto della classe session questo è in creazione ma in modifica ci sarà che parte un slot wordwrap togled quando qualcuno modifica effettivamente si va su tutti i documenti a dire modificati la modalità wordwrap che passi da wordwrap a nowrap cioè che non tagli il testo oltre a fare questo devo anche andare nel mio session session e dire set wordwrap e gli passo quello che l'utente ha fatto se è true se è false se ho fatto bene noi dovremmo adesso vedere di default vabbè è true però se adesso io lo disattivo e chiudo e riapro dovrebbe rimanere disattivo è disattivo e infatti se apro se apro un documento lui in realtà perché è andato a capo anche se è disattivo perché ragazzi quando quando io ho fatto questo dove stai quando io ho fatto questo wordwrap set checked questo in quel momento in cui ho cambiato l'opzione non c'era ancora lo slot in ascolto sui segnali di quella non c'è ancora il connect sta dopo quindi in questo momento io gli ho cambiato l'opzione ma lo slot non è stato invocato e quindi che facciamo lo invochiamo noi manualmente qui ma se lo invochiamo qui non ho ancora fatto la costruzione magari di tutte le altre cose quindi tipicamente quello che uno può fare è invocare forzosamente gli slot al termine della costruzione perché devono essere sincronizzati con quelle che sono le variabili attuali del sistema grafico quindi in questo caso invoco forzosamente questo dicendogli ti invoco con l'opzione attualmente selezionata quindi se attualmente c'è true lui verrà invocato con true se c'è fosse verrà invocato con fosse quindi uno slot si può invocare anche senza segnale è un'invocazione forzosa forzata però in questo caso c'è utile perché abbiamo visto che se il wordwrap è disattivo lui non andava ad aggiornare anche il documento non è questo è solo il problema sì è giusto questo il problema è che quando creiamo quando creiamo un nuovo documento e quando lo apriamo noi gli settiamo il wordwrap quindi l'invocazione forzosa non va fatta nel costruttore perché il costruttore non ha documenti non ci sono documenti aperti in quel momento qui non va fatta qui ma va fatta qui quando si crea un nuovo documento vi si setta l'opzione wordwrap pari a quella che è attualmente selezionata e quando si apre un documento esistente vi si setta l'opzione wordwrap pari a quella attualmente selezionata adesso vorrebbe finalmente funzionare nuovo documento documento esistente adesso c'è la barra perché questo è disattivo e del resto se andassimo nel nostro registro di sistema che ho chiuso andiamo qui adesso questo è false vedete quindi c'è questo aggiornamento e quindi se adesso lo riattivo lui alla prossima esecuzione ha memoria di questa opzione e infatti rimane attivo e anche il documento adesso ha l'andata a capo automatico quindi questa cosa è effettivamente valida il registro di sistema dice ancora forse perché si deve aggiornare f5 true vedete terminiamo qui la lezione perché il tempo è finito però abbiamo imparato come salvare e leggere e sincronizzarci per mantenere la persistenza domani facciamo il menu dei file recenti e andiamo avanti parlando per la prima volta finalmente di programmazione a eventi quindi definiremo gli eventi a livello del sistema operativo praticamente terminiamo qui la registrazione